Rifinitura al Partenio Lombardi, partenza solo domani mattina alle 9 per Frosinone e sgambatura in albergo. E questo è il programma dell'Avellino alla vigilia di una sfida delicatissima che domani vedrà pure il presidente Walter Taccone al seguito della squadra. Una squadra che Walter Novellino ha in settimana cercato di preparare a quella che si preannuncia come un'autentica battaglia del venerdì sera contro un avversario che ha voglia e capacità per prendersi la testa della classifica. Al Benito Sirpe però i biancoverdi sono fermamente intenzionati ad allungare a tre la striscia di risultati utili consecutivi magari mettendo a segno quel blitz che farebbe cambiare la prospettiva della classifica. Di certo contro i Frosinati si ripartirà da un 3-5-2 abbastanza coperto ma anche con diverse varianti. Il primo nodo che Novellino dovrà sciogliere in queste ore riguarda il guardiano dei pali. Rado è appena tornato dall'impegno della Nazionale e si contenderà il posto con Lezzerini. In difesa scontata l'alternanza tra l'infortunato Swager e il ritrovato Kresic anche perché Marchizza appena rientrato dall'impegno con l'Under-20 ha lavorato poco con la squadra. I dubbi maggiori della vigilia sono tutti nella mediana. Moretti pur avendo recuperato non è al top e non è affatto da escludere un suo impiego part-time con in cabina di regia di Tacchio e al suo fiango l'inedito tandem composto da LASIC e Molina. Sugli esterni invece Laverone e Falasco dovrebbero essere chiamati ad un lavoro da stantuffi. Attenzione però perché al posto di Falasco, che non convince del tutto Novellino, potrebbe esserci nuovamente LASIC con l'eventuale reinserimento di Moretti. Si vedrà. Nel frattempo l'ultima partitella contro la Primavera è servita almeno a stabilire e chi sarà il partner di Ardemagni rimandato per l'ennesima volta all'esordio di Bidawid a seconda punta al Benito Stirpe toccherà Gigi Castaldo che contro i Leoni vanta tra le altre cose una serie estremamente positiva. Per Asensio Beepi in cerca di gloria quindi ci sarà spazio soltanto nella ripresa per dare una mano e magari incrementare il suo scorro personale fermo al gol vincente contro la Provercelli.